Sì, ma Vitali sta facendo anche lui una gran partita, sta smistrando palloni a destra e sinistra da assist per tutti. Con grandissima fiducia e ottima visione di gioco. Intanto Bowers, il mismatch contro Cotti deve batterlo in velocità, ci prova in penetrazione, ottimo canestro di Bowers. Ottimo canestro che sfrutta la rapidità contro Cotti sicuramente. Umana che ora deve cominciare con grande intensità questo secondo quarto di gioco. Marco Nato cerca il gioco spallicanesto di Bowers che esce dai blocchi. Bowers prende la corsia centrale e subito si vedono le prime intenzioni di Venezia a coinvolgere Bowers in attacco. Per lui una media di 5.9 punti a partita. Comunque dotato di un ottimo tiro. Buono il secondo. Il clima playoff è anche comunque un sostegno da parte del pubblico il clima. Buono il primo per Bowers. Più 6. Più 7. Attenzione anche la differenza.